Aldo io festeggio ancora stasera la seconda volta, che buono, mi piace questa spremuta di pomodoro, l'ho già presa ieri sera veramente buona, adesso la bevo qui, sono all'underground del bosco verticale, puoi vedere questa coppia innamorata di uccellini, è un qualcosa di eccezionale, questo tavolo ben preparato a festeggiare la mia vita, il mio senso che da ogni pomeriggio, a ogni minuto è all'esistenza nel vivere, nel rapporto con altre persone, mi piace e sono amato da tante persone, spero di continuare, che non si trasformi in odio, amo i miei amici, amo la mia vita, ha di più di quest'età di quando avevo 20 anni e una terza gioventù, ora mi gusto la spremuta di pomodoro, un quarto d'ora, qui è il bosco verticale, nell'underground, dei negozi sottostanti, aperto fino alle 11 di sera, però devo dire che esco un po' prima perché devo prendere la metrò, purtroppo non ho la possibilità di abitare in questi grattacieli, però mi piace lo stesso la mia vita da povertà e sono contento da viaggiare e da fare di andante, vi saluto a tutti, a tutti gli ascoltatori.